Per prima cosa invito tutti a venire a sostenerci perché le ragazze se lo meritano. Credo che per noi sarà importante fare un'altra buona partita perché in gara 1 abbiamo fatto un'ottima partita. Poi un po' di fortuna secondo me ha riso più a Luca che a noi. Dovremmo essere bravi a riproporre la stessa partita con la stessa energia, ovviamente magari cercando di non avere cali perché l'abbiamo avuto nel terzo quarto e poi credo che sia loro che noi siamo due ottime squadre che possono esprimere una buona palla canestro. La vincerà probabilmente chi sarà più coeso, più unito, più brillante sotto tanti punti di vista. Noi comunque combatteremo e giocheremo alla morte per portarli a gara 3.